Questo mini PC costa 1049 euro, che sono tanti, ma in realtà sotto la scocca nasconde delle sorprese parecchio interessanti. Ne parliamo dopo la sigla. Geekom ci ha inviato due nuovi PC. Uno è questo e si chiama XT13 Pro, mentre l'altro lo scoprirete prossimamente. Parliamo di lui perché è praticamente il super top di gamma dell'azienda. Super top di gamma non solo per il prezzo, ma anche per la dotazione hardware. Qui dentro, in questo minuscolo spazio vitale, c'è un processore Intel Core i9-13900H. E se avete familiarità con i processori saprete che è proprio una bella bestiolina. E se invece non ce l'avete, ve l'ho appena detto io adesso. Non è però da solo, perché abbiamo 32 GB di RAM e 2 TB di spazio. Io ho fatto i salti di gioia quando è arrivato perché con 32 GB di RAM ero sicura di riuscire a montare un po' di tutto con Premiere Pro. O almeno tutto quello che serve a noi. Tra l'altro, se non dovesse bastare, si può fare l'upgrade e metterci 64 GB. Tanta tanta roba. In più, con 2 TB non mi sono fatta problemi ad occupare un po' di GB con il girato e persino con qualche gioco. Ecco, chiaramente non c'è una scheda grafica dedicata qui dentro, sarebbe un po' impossibile. Avete però Intel Iris Xe, che è la GPU integrata nel processore. E poi la tecnologia Ice Blast 1.5, che si occupa del raffreddamento. Con una ventola molto efficiente, un grande dissipatore, doppi tubi di calore e una buona pasta termica. Questo non significa che rimane sempre freddo, non sarebbe vero. Un giorno ho fatto questo errore di sollevarlo prendendolo da dietro, dove esce l'aria calda. E vi garantisco che non è stata sul momento una bella esperienza. Non vi ustionate, ci mancherebbe, però insomma, è molto caldo. In ogni caso impedisce al PC di raggiungere delle temperature critiche, anche di fronte a compiti molto pesanti. Per cosa è dato questo PC? Ah, qui non vi dirò niente di nuovo. Stiamo parlando di un PC potente, ma senza GPU dedicata. Quindi esclude tutti quei programmi che invece hanno bisogno di una scheda video. Se però avete software anche abbastanza impegnativi, che possono farne meno, come ad esempio, non lo so, Photoshop, oppure Lightroom, o tutta una serie di gestionali e di programmi che vengono usati all'interno delle aziende, ecco, secondo me lui è veramente un'ottima alternativa. Gli ho dato in pasto tutto il materiale che ho girato in Cile, che sono circa 220 GB in 4K, e non ha battuto ciglio, né durante il montaggio, né durante la riproduzione. Si comporta benissimo anche nelle attività quotidiane, ovviamente, quindi gli Excel, le mail, la navigazione, la scrittura dei testi. Però ecco, se fate solo questo, lui è un po' sovradimensionato, direi. Potete giocare? Se non è niente di impegnativo da un punto di vista grafico, sì. Ad esempio, Forza Horizon funziona, Formula 1 2024 funziona, Fortnite, League of Legends, sono tutte cose che vanno, però quando gli date tipo il Call of Duty della situazione, abbiamo un po' di difficoltà. Insomma, la GPU Iris Xe fa sempre meglio, col passare degli anni, però con dei limiti, chiaramente. È invece promossa a pieni voti la connettività, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, abbiamo due porte USB a 3.2 sulla parte frontale e poi abbiamo un sacco di porte sulla parte posteriore, andiamo dal USB-C Thunderbolt 4.0 agli HDMI 2.0. E sì, c'è anche l'Ethernet che supporta 2.5 gigabit e ovviamente l'ingresso per l'alimentazione. Tra l'altro può reggere quattro schermi in 4K o uno schermo in 8K, quindi il multitasking è sicuramente la vostra portata. Ecco, l'unica assenza rispetto agli altri modelli, tra quelli che abbiamo provato fino ad ora, è che non c'è né lo slot per la scheda SD, che era utilissimo secondo me, né l'ingresso per il looketto Kensington. Un peccato. Aggiungo poi una nota sul design, però è una nota personale, perché io non sono ancora riuscita a digerire questa parte superiore bianca, abituata agli altri modelli, che avevano la scocca praticamente monocolore, non lo so, lo guardo e mi sembra strano. Anche se per il resto è decisamente simile ai suoi fratelli, inclusa la possibilità di agganciarlo dietro al monitor. Ora, la domanda è, Geekom XT13 Pro vale 1049€? Perché sono tanti soldi per un mini PC? Ecco, penso che dipende dall'uso che volete farne. Ad esempio, per l'uso che faccio io, potrebbe andare abbastanza bene, perché Premiere si comporta bene. After Effects anche, almeno con i progetti che gestisco io, che sono progetti abbastanza piccoli, Photoshop, Lightroom, funzionano davvero bene. Lo vedo bene anche per un uso aziendale un po' spinto. Parliamo ad esempio di videosorveglianza, di gestione di tanti monitor, anche perché a bordo c'è Windows 11, quindi potete installare un po' tutto quello che vi serve. Peraltro Geekom non include nessun software aggiuntivo, così non dovete fare i conti con cose che non volete o non vi servono, che è sempre bruttino. Ovvio che se siete quelli che leggono solo le email, navigate sull'internet e cose di questo genere, come dicevo prima, è un po' troppo. Ci sono altri modelli, sempre Geekom, che funzionano bene e costano meno. Ad esempio c'è un XT13 Pro che però ha un processore i7 e un terabyte di spazio. Dovete quindi fare un po' le vostre valutazioni in base a quello che vi serve. E con questo direi che vi ho detto tutto quello che dovevate sapere su Geekom XT13 Pro. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirci sull'Instagram e TikTok, che incredibilmente continuano ad essere tutte cose gratis. E se avete dubbi, domande, perplessità, lo sapete che vi basta lasciare un commentino qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!